perdere il lavoro può essere un evento stressante e spaventoso ma ci sono alcune cose che si possono fare per gestire questa situazione molte persone pensano che sia una cosa quasi impossibile la classica frase ma figurati se capita a me anche io lo pensavo ma alla fine è capitato anche a me per la prima volta in vita mia e voglio raccontarti questa mia esperienza cosa sto facendo quali sono a questo punto le mie alternative e le cose che psicologicamente vanno affrontate perché al di là della componente economica anche quella psicologica pesa tantissimo anzi a mio parere è la parte più pesante ciao a tutti e bentornati sul canale io risparmi io come sempre sono pasquale il vostro investitore risparmiatore della porta accanto nonché educatore finanziario aif e datore del libro da meno 35.000 in 18 mesi libro del quale puoi trovare qui sotto il link nella descrizione nel caso tu lo voglia acquistare dove ti vado a raccontare la mia personalissima esperienza da una debitato seriale ad un investitore e risparmiatore consapevole trovi link qui sotto sia per quanto riguarda la versione cartacea che per quanto riguarda quella kindle appunto nella descrizione è una situazione nella quale non pensavo mai di trovarmi in vita mia sia perché sono una persona particolarmente esperta nel mio lavoro e sia perché come dicevo siamo sempre dell'idea che a noi non capiterà mai ma alla fine è capitato ti racconto che cosa è successo e ti chiedo per favore di supportarmi veramente con poco in questa situazione basta veramente solo iscrivete a questo canale supportarmi supportare il mio lavoro e ovviamente guarda questo video fino alla fine se anche tu sei nella mia stessa situazione per capire cosa sto facendo io come mi sto muovendo io per avviare appunto a questa particolare esperienza ricordando che non dobbiamo mai vedere il problema che una situazione come questa possa creare ma le opportunità invece che ci si possono presentare la prima cosa che ci dicono sempre tutti di cercare di mantenere la calma cosa facile per me perché mi scivola tutto addosso e anche perché nel tempo mi sono autoeducato a questo se posso darti un consiglio potresti riferirvi a un vecchio detto di aristotele che dice se c'è rimedio perché te la prendi e se non c'è rimedio perché te la prendi inutile ravanarsi il cervello il cervello dove dovrebbe invece cercare lavoro lavorare per cercare la soluzione e non perdere la speranza certo ci sono rimasto molto male ma se mi disperassi non cambierebbe assolutamente nulla perdere il lavoro non significa che tu sia fallito ci sono molte ragioni per cui una persona può perdere il lavoro e molte delle quali sono al di fuori della sua sfera di controllo anzi la maggior parte delle volte il problema non sei tu ma ognuno di noi ha un carattere diverso e per cui per molte persone può essere un'esperienza estremamente stressante e può portare una serie di problemi psicologici ne elenco alcuni ma non è una listesa ostiva ad esempio ansia e depressione la perdita del lavoro può essere una delle principali fonte di stress e di incertezza che possono scatenare sintomi di ansia e depressione le persone possono provare un senso di impotenza di disperazione e di tristezza in molte di queste situazioni parlare con un amico un parente o un esperto può sicuramente darti una mano o anche una bassa autostima perdere un lavoro può anche causare una perdita di autostima e fiducia in se stessi le persone possono sentirsi come se non fossero abbastanza brave e possono lottare con sentimenti di vergogna e imbarazzo ma come dicevo prima non dipende assolutamente da te non è colpa tua e anche se lo fosse non significa che tu sia un fallito poi si passa la parte monetaria lo stesso finanziario perdere un lavoro può creare uno stress finanziario molto significativo che può causare ulteriori problemi psicologici a cascata le persone possono preoccuparsi di come pagheranno le bollette provvederanno alle loro famiglie o manterranno il loro tenore di vita quello che hanno sempre avuto questo è forse per molti di noi lo scoglio psicologico da superare col maggior impatto ed io in questo contesto ho un po di terrore di non poter mantenere mio figlio ma almeno fino a che mia moglie continua a lavorare perlomeno abbiamo un cuscino un materasso su cui appoggiarci poi si parla di isolamento sociale perdere un lavoro può anche portare a isolarsi socialmente perché le persone possono sentirsi imbarazzate o vergognarsi di stare con gli altri questo può portare a sentimenti di solitudine e può esacerbare altri problemi psicologici per questo dico che è sempre importante confidarsi con gli altri possiamo avere anche una crisi di identità perdere un lavoro può anche portare una crisi di identità poiché le persone possono sentirsi come se avessero perso una parte significativa della loro identità e del loro scopo di vita possono avere difficoltà a trovare un significato nelle loro vite possono sentirsi persi o incerti riguardo a quello che sarà il loro futuro ma per quanto potete essere persone che facevano il lavoro della loro vita ricordatevi che non dovete vivere per lavorare ma il lavoro vi serve per vivere è importante che noi che le persone che hanno perso il lavoro cerchino supporto da amici familiari e professionisti quali sono gli step in questo caso da seguire passo passo per poter uscire prima possibile da questo pantano prima di tutto utilizzare il tempo per risolvere il problema e non per piangervi addosso fare dei colloqui di lavoro con un'aria miserabile vi posso assicurare che non aiuta sicuramente io l'ho fatto in passato e andavano tutti male il selezionatore percepisce lo stato d'animo usate il tempo invece magari per ragionare il curriculum e la lettera di presentazione facendolo in maniera più professionale più attraente possibile cerca di mostrare tutti i tuoi successi passati e le competenze che hai acquisito durante il tuo lavoro precedente e non sentirti assolutamente in difetto nella compilazione solo perché hai perso il lavoro cercare di trovare un nuovo lavoro al più presto possibile è il tuo obiettivo ma non deve essere assolutamente un cruccio che ti fa appendere verso il tuo sfruttamento puoi iniziare a cercare lavoro su internet sui siti di annunci di lavoro o contattando le agenzie di collocamento le opportunità che ci fornisce la rete non sono le stesse di quelle che c'erano quando alla mia prima esperienza dovevo avere per esempio il libretto di lavoro da presentare a ogni assunzione o a ogni disoccupazione se non trovi subito un lavoro cosa che potrebbe accadere considera l'idea di fare un tirocinio o di lavorare come volontario in un'organizzazione che ti interessi o di formarti ci sono innumerevoli metodi per formarti in maniera gratuita e io ne ho parlato di recente in alcuni video anche i centri per l'occupazione offrono una serie di corsi in maniera gratuita e ti guidano aiutandoti in maniera molto ma molto professionale il tuo percorso questo ti darà l'opportunità di acquisire nuove competenze di mantenere la tua mente attiva e creativa e di creare nuove connessioni ovviamente è d'obbligo affermare che devi ridurre le tue spese se hai bisogno di un po di tempo per trovare un nuovo lavoro cerca ovviamente di ridurre le tue spese al minimo indispensabile di evitare di accumulare i debiti ovviamente non significa che devi recluderti in casa e non prendere neanche una caramella ma fra zero e infinito ci sono una serie di sfumature molto ma molto chiare e ben definite prenditi cura di te stesso cerca di mantenere uno stile di vita sano ed equilibrato dormi bene fai esercizio fisico e prenditi del tempo per fare le cose che ti piacciono mantenere una mentalità positiva può aiutare tantissimo a superare questo periodo difficile mensana incorpore sano dicevano i nostri antenati e questa è una buona occasione per prenderti cura di te stesso io ad esempio ho ricominciato a fare esercizio fisico con costanza non con una donna che si chiama costanza perché se lo scopri mia moglie zanghe a questo punto puoi anche richiedere la naspi la naspi è la nuova assicurazione sociale per l'impiego ed è un'indennità di disoccupazione a cui si ha diritto se sei stati licenziati o se il proprio contratto di lavoro è scaduto si può richiedere online attraverso il sito dell'inps il nostro istituto nazionale per la previdenza sociale io ne ho fatto richiesta e se ti interessa un video apposito posso fare un approfondimento in merito per farti capire come fare quali sono i parametri per essere ammessi e quali sono le diciamo gli step da seguire ma ci sono anche altri supporti come ad esempio il dedito di cittadinanza o altro io personalmente mi sono dato due settimane per riflettere una è già passata ed oggi l'unica 13 marzo inizia la seconda questa mattina ho avuto anche un incontro con il centro per il lavoro ma avevo già registrato per cui ti tengo informato magari con un video apposito in merito in queste due settimane sto cercando di fare una valutazione se cercare un lavoro nel mio ambito in maniera alternativa oppure se prendere in considerazione l'opzione dell'auto imprenditorialità portando avanti non solo youtube ma ora che ho molto più tempo a disposizione sia la scrittura del secondo libro che la creazione di corsi cose che ho lasciato in disparte considerando che lavoravo full time e non avevo tempo a disposizione se si hanno delle buone idee imprenditoriali si può prendere in considerazione l'idea di avviare un'attività in proprio sono anche per questo molte risorse disponibili per i nuovi imprenditori in italia come servizi offerti dalla camera di commercio e a riguardo se vi interessa posso fare anche un video dedicato in merito nel frattempo sto facendo un po di video editing per altri colleghi su youtube e cerco di arrotondare portando la pagnotta a fine mese ma non mi fermo mai e la disoccupazione non avrà il mio scalpo bene eccoci arrivati anche alla fine di questo video oggi come non mai se il contenuto è stato di tuo gradimento ti chiedo per favore la cortesia di farmelo capire con un bel pollice in in su anche per l'algoritmo di youtube più cresco e più ho possibilità di creare nuovo cash flow che mi permetta di mantenermi nel frattempo che io cerco un nuovo lavoro o porto avanti la mia idea imprenditoriale lasciami un commento qui sotto e dammi le tue impressioni in merito se poi sei nuovo su questo canale non vuoi perderti nessun contenuto successivo iscriviti e clicca la campanella delle notifiche affinché ogni nuovo video pubblicato ti sia notificato bene anche per oggi è tutto ti chiedo scusa se parlo un po male ma ho una tonsillite e beh ci vediamo al prossimo video ciao a presto